Eh sì, esatto, i Pixalber Pixalnik Praticamente oggi aperto di mente come tu sei Solo di mente, però ragazzi non pensiamo di altre cose per carità Magari chissà Però praticamente oggi dobbiamo andare a uccidere il drago Sei contento? Molto, finalmente! Da quanto tempo è che te lo chiedevo? Aia, perché? Da un sacco di... Perché dovevamo testare la forza delle nostre mega armature Eh, questo testo pure io Vai, 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 dammi una frecciana Una frecciana Devo dire E' un cuore e mezzo mi pare Eh, è forte, è forte Sì, è molto forte come armatura Eh, lo faccio io Andiamo! Ok, bene Wow, ma te hai dei blocchi? Oggi, sì, sì, sì Certo che ho dei blocchi Ma per chi mi prendi? Per mastro maiale? Che caspita ho detto non lo so nemmeno io Però mastro maiale Mastro maiale È una persona molto antica che io ho visto praticamente Ma... Ah, ok Guarda, è un po' complesso Fai tu il coso perché non ho di certo voglia Eh, non ho i blocchi Ok, grazie Ok Allora praticamente tu stai attento a come parli E poi adesso io se c'è qualcuno Immediatamente prendo l'Ender Dragon E lo metto chissà dove Cioè nel senso Capito? Gli faccio fare i capogiri a sto Drago Eh, le gira volte Il volta stomaco anche lì Sì, ma tu stai parlando Ti sei... Non so Ti stai facendo la pennichella Magari ti stai... Perché? Per cosa? Che ho fatto? Eh, perché stai parlando basso Intanto c'è l'Ender Man che però mi urla nelle orecchie Non so se sta facendo qualcosa di giusto Oppure no Non sta compensando Ma non è sbagliato quello che sta facendo quell'Ender Man Sì, 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 infatti Bene Siamo dentro Adesso magari vediamo se possiamo ammazzare l'Ender Dragon Oppure se dobbiamo ancora camminare per 20 km Prima di poterlo ammazzare Eh, ho capito Ma non voglio camminare Cioè io sono stanco Ho i piedi gonfi Perché per me sei vecchio anche Sì, allora Come ti permetti? Io sono offeso Basta Non siamo più ammicidori Guarda, guarda C'è la puzza là Eh, l'avrà Boh, non lo so Cioè, vabbè Ok L'avrà fatto una puzzetta al Drago Sì, sì Ah, ma cosa cazzo Ma cosa vuoi? No, no Cosa hai detto? Non ha detto niente Ma cosa c'è sto qua? È impazzito Ma non gli ho fatto niente Si è triggerato Beh, ma io sono Io sono Giorgi di rifinzare Certo che però si capisce Mentre tu parli E sti qua urlano Cioè, si capisce tutto Ecco, scopo Ti rifai urlare però Sì, però ho capito Stanno continuando a venirmi addosso Cioè, ho capito che sono bello Eh, beh E quindi però Ora, lei signore Se ne deve andare immediatamente No, vabbè Ma basta Santo cielo Che devo andare sotto Per abbassare tutte ste robe Ma non è possibile ragazzi Non è proprio possibile Ancora Basta, basta Devi andare Tu ti sei addormentato No, no Ci sono No, perché non c'era qua un cristallo del land Dentro la gabbia Cioè Vabbè Comunque Adesso vediamo un attimo Se possiamo trovare sto qua Ah, giusto Dobbiamo prima distruggere i cristalloni del land Eh, esatto Tu invece che traierdare Concentrati invece sul parlare Che è più fondamentale Piuttosto che magari stare lì a fare cose Sì, ma se sentire le frecciacolacche dentro la gabbia Come pensi riprenderlo? E non pensare di dare gli ordini a me, sai? Stupido rincol... Cattivo Eh, ma hai visto che figo che sono... Come hai fatto? Ma dai, ma era già spento Potevi dirmelo, no? Idiota Eh, quanto pare non ci sono i cristalli Ma non ci sono i cristalli Cosa vuol dire? Chi è stato? Cosa vuol dire? Sì, meglio così, no? Mmm, io ho un'idea, Nick Del perché non ci siano i cristalli Io ho un'idea Guarda, io mi sto rompendo le palle Di continuare a spammare No, ma il mio c'è E' anche meglio Che non ci siano i cristalli del land Guarda Eh, lo so, è meglio Perché sennò stavano qua tre ore Stacco Cosa sta facendo? Si è intrigherato di più No, si muore più Ok, allora Cerchiamo di distruggerlo Anche se fa un casino pazzesco Ah, no Aiuto Ah, hai poca vita Muori, drago Muore Dai Muore, schifoso Manca proprio una tacchettina schifosa Muore No, l'ho fatto te La cismetola Si Va per farlo Cismetola Ok, che aspetta Sto dice Ma sembra una vecchia Che urla dalla finestra Nica adesso Scusatemi ragazzi Ma nica Allora, ascolta quello che dico io Invece di chiedermi il piccone Stupido, ignorante Che ho detto che Il pistone Il pistone Ma perché No, poi non serve il pistone Nica Che vecchia Non serve Guarda C'è una tecnica più Semplice Invece che il pistone Praticamente Metti la torcia Tac E prendi l'uovo Ah, ma io Mi dai l'uovo? Per favore Così faccio la cismetola Si, tieni Però io non so perché Stavo sentendo una sorta di eco Da te schifoso Bene Direi di entrare nelle end cities Perché praticamente magari Elytra Elytra Hai capito bene Ovviamente Siamo tutto Quanto? Il primo a ricevere l'elytra Chi sarà mai Se non Dunis Eh Io e te Ovviamente Ovviamente Continua il ponte immediatamente Perché io di certo Non sono qua Ad aspettare i tuoi comodi Se non continui Ti butto giù Che cosa mi spadi? Non ti stavo spadando O per cadere Eh Attento a non cadere Però Ah però comunque Eh via Pum Eh mamma Mi sono stato fighissimo Mamma Sei un pazzo furioso Sì lo so Allora Cos'è che posso prendere? Hmm Posso andare sopra Con la gravel Non me ne può fregare di me Ma scusa Ma non è Allora Porca pucciorra Dovamo venire qua Con tante cose Porca maialone Porco blocchistone Perle A parte le enderperle Però praticamente Non è possibile Cioè Come facciamo ad andare Nelle end cities Siamo sprovvisti di tutto Cioè Siamo sprovvisti totalmente di tutto Però allora fai così Vabbè dai Meglio che niente Cioè comunque Il drago l'abbiamo ucciso Abbiamo abbastanza cose Per andare Per andare Sì nelle end cities Perché sennò Che caspita facciamo Supido ignorante Eh non lo so Cosa facciamo Dovevamo prendere le litra noi Ma tante Tante litra Tante litra Sì 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 Io comunque ragazzi Gli sto dando corda Più del solito Perché praticamente Vedo che sta parlando Quindi questa cosa E' emozionante per me Cioè Wow E' pure per me E' veramente Cioè non Voi dovevate vedere Lo scorso video Era terribile Cioè non ha parlato Ha detto una frase Ogni 20 minuti Tipo E contate che faccio 10 minuti Ma insomma Dettagli però Un po' Molto rilevanti Sono Poi importanti Sì 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 E invece tu Devi imparare come ora A parlare così bene Come hai fatto ora Certo Hai un underpearl Tieni Oh quando ti chiedo una cosa Ma mi devi rispondere subito allora Ma devo Devo spiegarti tutto io Ok perfetto Cioè ci sono Ci sono Sono un figo E tantissimo E sono soprattutto Non prendere in giro Perché se prendi No Cos'hai fatto Allora Ragazzi Io lo tipo perché Vabbè sappiamo tutti che Usiamo il tp Allora Nick 488 6 Perché sapete come Non vorrei essere Non vorrei Sto rientrando Non vorrei ammazzarlo Ok Tipato Tipato Stavo per morire Stavo per morire Madonna mia Ti odio Ti odio Eh ma perché Hai usato a prendermi in giro Invece guarda cosa è successo Ho capito Ma te non mi dovevi spadare Hai altre Cosa ho detto Hai altre enderpearl No ne ho solo una Questa Eh no Controlla meglio Controlla Non è possibile Eh controllo nel mio zenetto segreto Sì nella shulker Che ancora Sì però ho capito Cioè io la gravel Se io piazzo la gravel E vedi non funziona E perché non funziona Nick è colpa tua Dovresti vergognarti Per questa tua colpa Cioè Devi chiedere scusa Allora che Allora tutti quanti Cerchiamo di scrivere Che è colpa Di Nick Perché non ha l'ender Prima che Ma sei normale Cosa stai facendo Cosa In che senso Cosa sto facendo Ma quanto ti serve Per capire Se hai l'enderpearl Nell'inventario Oppure no Scusami Eh no perché Sto scutando bene Ma Nick Eh sono un po' stupido Comunque le trovate Ma se dovevi dirmi Se ce le hai Oppure no E basta Ma sono stupido Lo sai pure te Ok va bene Apprezzo Comunque No No prendi Eh la madonna quante Hai proprio ucciso Un sacco di enderman Allora Ah che bello Vieni qua con me Stupido coglio No No è una Perché non devi sempre dire Queste cose brutte È uno mignolo simpatico Dai No è brutto Mi offendi Ma perché Ma perché coglio È come dire Ma mio No mio no Che schifo Maiaia Che schifo Oppure smagliaio Ste robe qua Insomma No Prendiamo i cac I ciorus Fruits Così che volevi prendere Cactus Ciorus Fruits Ok prendiamo i cac Ciorus Che sono buoni I cac Permetti ancora una volta Di contraddirmi Io No no scusami 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 Scaglierò Contro di te Le mie saette La tua Ila Pesantissima Le mie saette Che solo da Zeus Mi sono state donate Wow E se ti permetti Di parlarmi ancora una volta Addosso Non ti scaglio Solo le saette Addosso Non solo quelle E cos'altro Indicibili Ma Fai un po' tu Insomma Fai 2 più 2 Uguale 4 Non fai paura adesso Dunice Esatto Fai bene ad aver paura Vediamo un attimo Se troviamo un attimo Qua vicino Una Qualquadra di cosa Aspetta Ma te ti ricordi Come si facevano Le enderperle Le enderperle Non si fanno Si prendono Degli endermen Volevo dire I razzetti I razzetti Si fanno con la Gunpowder Come la prendiamo La gunpowder La gunpowder La prendiamo Con i creeper Per forza Eh ma ci dobbiamo fare Una farm di creeper Mi sa che Non la farò io Eh si 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 Vabbè Però comunque Intanto concentriamoci Sul fatto che Dobbiamo tra le litre Dato che non ce l'abbiamo Eh Tra le litre Ci saranno i razzetti Però allora Ragazzi Noi nel prossimo episodio Continuiamo Magari nel prossimo episodio Avremo già le litre Non lo so Vedremo Magari faremo Un'esplorazione All'end Si dis Fateci sapere Se volete vedere Quest'esplorazione C'è questo enderman Che mi sta Letteralmente dietro E mi sta Vabbè Io non dico niente Perché è meglio Non dire niente Qualcose brutte Altro che Altro che cose brutte E noi Ci vediamo Ricordatevi sempre Di essere aperti di mente Come voi siete Come noi tutti quanti siamo Perché siamo persone Aperte di mente E noi ci vediamo Ad un prossimo video Ciao Ciao